Con il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, partono finalmente gli eventi dedicati al Giro d'Italia. Sì, il Giro d'Italia arriva a Reggio Emilia il 18 di maggio, torna dopo 5 anni, però noi abbiamo scelto di provare ad accompagnare questo percorso di avvicinamento con tantissimi eventi che precederanno i 20 giorni, diciamo così, che separano da oggi all'arrivo del Giro d'Italia. Eventi che coinvolgeranno le scuole, le società sportive, decine e decine di commercianti del centro storico che vanno certamente ringraziati, ma più in generale la città intera. Credo sarà una grande giornata di sport, ma sarà sicuramente anche una grande giornata di festa per la città e anche, credo, un'occasione di forte promozione territoriale per la nostra città, se pensiamo a quello che è il livello di audience mondiale che ogni singola tappa del Giro d'Italia porta con sé. Quindi, insomma, Reggio Emilia ha voluto la tappa, ma non ha soltanto voluto la tappa, ha voluto anche costruirci intorno un progetto di ingaggio complessivo dell'intera città e quindi, insomma, ci mettiamo in marcia, ci mettiamo in bici, potremmo dire, in attesa, come dire, di arrivare progressivamente, molto cariche al 18 di maggio, quando la città intera accoglierà e applaudirà il Giro d'Italia. Possiamo dire che Reggio Emilia si approccia al Giro d'Italia come fa una grande città, con tantissimi eventi, veramente di grande importanza? Sì, ci siamo dati una strategia che, ripeto, per 20 giorni coinvolge scuole, coinvolge commercianti, ha coinvolto molti sponsor. Inaugureremo una pista ciclabile, realizzata e compiutamente terminata negli ultimi giorni. Abbiamo collocato il Giro d'Italia nel contesto di una strategia di promozione territoriale, insieme all'inaugurazione dell'arena, a fotografia europea, a tantissimi altri eventi culturali che accompagneranno la città in questi giorni e in queste settimane. Il Giro d'Italia ha anche un suo significato non strettamente sportivo, direi anche popolare, come elemento anche unificante di una comunità locale, di una comunità nazionale e in più a Reggio Emilia incontra una città che ha nella cultura della ciclabilità e della mobilità sostenibile un proprio tratto distintivo che ci ha reso noti in Italia e nel mondo perché siamo la città con la più ampia rete di piste ciclabili in Italia perché ogni giorno ci sono migliaia di spostamenti che i reggiani per andare a lavorare o per il loro tempo libero effettuano in biciclette. Quindi insomma il Giro d'Italia arriva a casa, arriva in un posto che è pronto per accoglierlo nel modo migliore.